Lo schiavo dice ciao. Ciao. Mentre ti dico questo, forse qualcuno non lo sa, etimologicamente ti dico schiavo. Ma non tu sei il mio schiavo, bensì io sono il tuo schiavo. Io sono schiavo tuo. Io sono il tuo sclavus in latino. Io sono il tuo schiavo in Veneto. Ciao in tutta l'Italia e indirettamente in varie forme in tutti i paesi dove sono emigrati gli italiani. Lo sclavus perde la cl di cla che si trasforma in cha palatale morbida di schiao Veneto che a sua volta perde la s iniziale di sclavus che restava per sono. Sono schiavo tuo. Sclavus. Ciao. 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 Schiavo tuo. Serva vostro al sud. I miei omaggi. Ciao. Mi metto a vostra disposizione. Chino il capo al vostro incrociarmi. Come i maschi dominanti quando incrociano l'altro maschio in segno di sottomissione. Non a caso il ciao viene spesso accompagnato dal palmo della mano alta e aperte in direzione dell'altro che è un evidente segno di cedimento simulato di difese abbassate di mani in alto senza armi contundenti e di offerta del corpo nudo e innocuo all'altro. E il ciao come nipote dello schiavo di sclavus a sua volta risente dell'origine slava di uno dei popoli più ridotti a schiavitù dalle genti germaniche del basso medioevo. Gli slavi appunto ex invasori. È singolare ma neanche tanto il fatto che nel più semplice dei saluti che avvengono ad ogni incontro l'abitudine porti almeno etimologicamente a farsi schiavi dell'altro. Se entrambi dicono ciao entrambi si dichiarano schiavi dell'altro. Entrambi infatti alzano la mano. Entrambi possono chinare leggermente il capo e leggendo l'altro per così dire ad animale dominante. Entrambi presentano i propri omaggi. In realtà come tutti gli animali in particolare i maschi hanno i loro rituali quando si incrociano per mostrare la opportuna scelta di non aggredirsi così il saluto antropologicamente è l'opposto della paura della diffidenza e della sfida ad ogni incontro. Fra uomini il farsi nel ciao schiavo dell'altro è il segno della tranquillizzazione della pace della non aggressione. Tutti schiavi nel saluto e nessun padrone nessuno minaccio di aggressione. Pensiamo a quante liti nelle società aristocratiche di una volta potevano nascere per l'omissione dell'accessione del passo. Vedi fra Cristoforo nei promessi sposi o per un saluto non deferente, non appropriato al contesto o all'ignaggio del ricevente, non rapacificante ma creante tensione fra le parti o almeno frainteso. Non a caso il servo vostro è filtrato nelle società mafiosi o comunque gerarchiche dove il saluto può generare mimicamente un reale inchino, testa bassa o addirittura genuflessione. Il ciao resta già qualcosa di meno gerarchico e paritario. Qui il servo vostro è simulato in vista di una risposta uguale e contraria, simmetrica, chiasmica. Al ciao ci si aspetta sempre la risposta di un altro ciao. Quando dallo schiavo tuo simulato del ciao si arriva al servo vostro reale, il saluto come deferenza è reale e non più simulato. Né il suddito di un re, né il dipendente da un boss mafioso potrebbero salutare con un ciao il re o il boss, malgrado con quel ciao dicano servo tuo, anzi schiavo tuo. Tuo e non vostro, sta anche in questo la differenza perché né al re né al boss si dà del tu. Il ciao da un paio di secoli è diventato una contraddizione in termini. Di chi dice schiavo tuo all'altro e al tempo stesso gli dà del tu. Servo tuo infatti nel linguaggio mafioso non si sostituisce mai al servo vostro, come al vos signoria non si sostituirebbe mai il tu signoria.